Emozioni, ragazzi, emozioni. Noi in realtà siamo qua per svegliare le farfalle dello storico. Avete presente quella sensazione che si senta ogni tanto, no? No, non la fame, le farfalle sono un'altra cosa. Per la fame è più facile, fra pochi minuti arriva da mangiare. Per le farfalle bisogna lavorarci un attimo sopra. Noi abbiamo un metodo infallibile, ragazzi, per svegliare le farfalle. Sì, sì, voi non dovete flertare necessariamente con la persona che avete davanti o vicino. Potete, ma non dovete necessariamente. Quando vedete una persona che vi piace, in giro per i tavoli, chiunque essa sia, dovete prendere carta e penna e scrivere un messaggino con quello che vi esce dal cuore. La carta e la penna la trovate in tavola. Guardate l'hostess, vedete? Vai vedere, l'hostess, vedete il numero lì. Prendete carta e penna. Quando vedete la persona che vi piace, scrivete quello che vi esce dal cuore, molto sinceramente. Vi firmate con il vostro numero identificativo, che dovete tenervi in vista. È la vostra ID della strada. Chiudete il messaggio, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare. In questo modo si metterà in moto un meccanismo che porta a sviluppare il farfalle. Vedrete, vedrete. Qualcuna di questo vi vedrà. Ok, ripartito. Allora, numero 7. Ma sono questi occhi azzurri splendidi, eh? Sono loro. Come ti chiami? Silvia. Silvia, da dove vieni? Da Cesina. Viene da Cesina. Cosa fai di bello nella vita? Lavoro in una pasticceria. Oh, lavori in una pasticceria. Hai dei campioni in macchina? No, no. Non ha campioni in macchina, peccato. Io sono molto...